E' il passire questa sera, io adesso ti presento, penso che ci sarà un buco pauloso per la presentazione in un momento che stanno, comunque, se stanno tutti pronti, Claudio, te lo so, signore e signori, e ti dettile! Guarda, lì sta di un male che non fai via, ma proprio guarda! Guarda, lì sta di un male che non fai via, ma proprio guarda! Guarda, lì sta di un male che non fai via, ma proprio guarda! Guarda, lì sta di un male che non fai via, ma proprio guarda! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.